Due amici si incontrano Uè, Marpione, che hai fatto con l'appuntamento di quella ragazza ieri sera? Eee, che ho fatto? E lei mi ha detto, dice, che fai? Vieni a casa mia, non c'è nessuno E tu che hai fatto? E io ci sono andato E allora? Eee, non c'era nessuno Oh yeah, oh yeah, oh yeah